La città torna a essere capitale dell'enogastronomia con la seconda edizione di Luca Gustosa. La macchina organizzativa per la manifestazione, che avrà come poli di attrazione Piazza Napoleone Amfiteatro, è già in moto per definire il programma della prossima Kermess, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo, con una formula ancora più diffusa e ricca di novità. Una delle più importanti riguarda la presenza delle città gemellate, che sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in Piazza San Michele, proporranno le loro specialità e prodotti tipici, co-stand e iniziative dedicate. Tutte le associazioni di categoria cittadine saranno protagoniste, con iniziative speciali volte a valorizzare le prelibatezze del territorio e le tradizioni culinarie più antiche, che prenderanno vita anche nel rinnovato mercato del Carmine.